Ok vabbè Diretta ragazzi Bella ragazzi siamo in diretta Peace and love amici Bonsa Nicola Oh 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 Signor e signori Buongiorno 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 Allora, facciamo la risposta in casa. Nel numero 4 è Nati Sardegna. Nel numero 5 è Il Salto di Natale. Nel numero 6 è la Natale Posta. Nel numero 100 è il Salto di Natale. Nel numero 10 è la Natale Posta. l'anava Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. 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 ma guarda fuori. La partita di Oaglio 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 Sì, 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 sì. No, no, è che vorrei togliere il messaggio, ma non so come cazzo, guarda, avevo cliccato e stavo riuscendo a capire. Grandissimo. Siedo, siedo. 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 Guarda, non penso. Ma dimmi rispondo. Aspettiamo ancora. Quanti non ti faccio? Eh, forse non ti faccio. Vabbè, non mi rispondo in entro due ore, ti rispondo. C'è il rischio. Andiamo. Adesso. E io ci sono Letese. SON DA ME INTO 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 QUA ECHO A HONDA WAIT Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 E non ti dimenticate. Grazie. 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 Mettimi dietro. Basta, zippo. Guarda, ci do io. No, dobbiamo tenere tutto il tempo quello. Però dobbiamo tenere tutto il tempo quello. No. Fittati. No, non è vero. Sì, fermo. Sì, ti giuro. Sì. Maia. Mi fatto male. Ineve� si severe. Attic Galera. Maia si vorrei così... No, es vero? Come voi volvi lì? No, no, che v68? No, non, non sono? Maia, 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 maia. Noga Laia Millona? Sì, diamo da giù. No, no, no. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Sì, sì, sì. Grazie a tutti. 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 No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e 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 a tutti.